Attivate dal Ministero dell'Istruzione le procedure per l'erogazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2021-2022, a comunicarlo la Regione attraverso una circolare dell'Assessorato dell'Istruzione della Formazione Professionale e Omonimo Dipartimento, potranno accedere al beneficio gli studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, con un indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, relativa al nucleo familiare di appartenenza, pari o inferiore a 8.000 euro. Nel comunicato del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si precisano i dettagli sulle istanze. Le stesse, infatti, dovranno essere presentate nella scuola frequentata entro e non oltre il 28 febbraio 2022, utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito del Libero Consorzio Comunale Nisseno, oppure potrà essere ritirato negli uffici del stesso settore Servizi Sociali, Culturali e Sviluppo Economico di Via De Nicola e nelle segreterie delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie frequentate. Oltre al modello, bisognerà consegnare tutta la documentazione richiesta, come la fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio padre, madre o tutore in corso di validità, si legge, fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale dello studente o della studentessa in corso di validità, destinatario della borsa di studio, e fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità. In questo caso, se mancante, viene richiesto il numero di protocollo e la data di presentazione DSU. Saranno poi gli enti locali ad acquisire tramite l'Inps l'attestazione.